1-0 Lecce, la Lazio pur faticando guadagna 3 punti importantissimi per la zona Europa, ne andremo a parlare in questo video, vedete dottorai commenti, istituzione, condivisione, campanellina, cose importantissime ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco, con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, ne avete aggiornato su canale a 360 gradi, quindi aspettate, fatelo se volete, edite la vostra qui sotto nei commenti, tifosi laziali, tifosi leccesi e non accettiamo. L'opinione di tutti, adesso fate la mia opinione in questo video, allora, Lazio-Lecce 1-0, Lazio-Lecce 1-0, allora, andiamo a descrivere un po' il primo e il secondo tempo, ovviamente aspetto la vostra qui sotto nei commenti, allora, primo tempo, primo tempo Lecce che se la gioca, se la gioca senza paura, con spavalderia, però è molto impresista, sottoporta frutto anche di un grande portiere della Lazio, un grande portiere della Lazio che oggi ha parato, ha salvato la Lazio nel primo tempo, la Lazio nel primo tempo, come è entrata in campo, non mi è piaciuta, squadra, nel primo tempo ha giocato meglio in Lecce, ha giocato meglio in Lecce, ha giocato meglio in Lecce, che ha attaccato di più, ha entrato in campo più grinta, con più... con più voglia di fare, nel primo tempo hanno giocato di sicuro meglio, hanno creato più occasionità con rispetto ad una Lazio spenta, con una Lazio prima di idee, hanno una Lazio che non mi è piaciuta sia taticamente che mentalmente nel primo tempo, secondo tempo, secondo tempo... eh, secondo tempo meglio la Lazio, meglio la Lazio, che rispetto al primo tempo gioca meglio di sicuro, in Lecce la mette più sul piano difensivo perché un Parigi all'Olimpico per loro già andrebbe bene, però... eh, la Lazio crea poco di concreto, poco di concreto perché sottoporta la Lazio oggi è scandalosa, è altrettanto scandalosa la Lazio sottoporta oggi, non il massimo, non hanno fatto il massimo delle loro possibilità... nel secondo tempo, sì, la Lazio ha creato di più del Lecce, questo è vero perché il Lecce l'ha messa poi sul piano difensivo, però la Lazio ha creato veramente poco poco di concreto, a parte il gol di Felipe Anderson, che è al cinquantottesimo dopo un bello gioco di squadra, tic-tacca, la palla che arriva a Luis Alberto, che libera a Felipe Anderson, che tira e fa 1-0, quindi... la Lazio ha vinto, vittoria importantissima, non gli deve importare com'è arrivata, ma vittoria importantissima, vittoria che dà morale, che dice che la Lazio è ridata, perché stanno tenendo una mola dei risultati consecutivi importanti, vittoria molto molto importantissima, come quella di oggi, che non è arrivata con il frutto di un gran gioco, però, almeno, hanno vinto e sono là. Con questa vittoria si trovano quinti a 33 punti, a pari punti con la Fiorentina che stasera deve giocare, a più 1 sul Bologna, a più 2 sul Napoli, a più 3 sulla Atalanta, a più 4 sulla Roma. Eh. Lotta per l'Europa sempre più... sempre più bella. Vedremo. Camionato molto equilibrato, sia dal punto di vista della zona scudetto, o comunque. E lotta Inter e Juve, una volta più 5, una volta più 2, una volta meno 5, una volta meno 2. Lotta anche bella per la zona salvezza, perché poi ci sono pochi punti che separano le squadre. E per la zona Europa, tutte lì, tutte attaccate. Mamma mia. La Lazio, pur non convincendo tantissimo, si porta a casa una vittoria importantissima. Dunque, questo è il mio post partita di Lazio 1-0 Lecce. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Lasciate nei commenti in sezione, condizioni e campanelline. E noi ci becchiamo con un prossimo video. Alle ore 18... dopo le 18 con Fiorentina Odinese. Ciao ragazzi.